questa sera ho realizzato per voi un piatto base del messier chiusi in connect si tratta del purè di patate che si realizza in maniera facile e veloce con il nostro robot da cucina senza nessuna fatica seguite il video per scoprire gli ingredienti che utilizzato e la procedura per preparare il nostro purè con il messier chiusi in connect occorrono veramente pochi ingredienti abbiamo bisogno soltanto di 600 grammi di patate pelate e tagliate grossolanamente a tocchetti di 250 ml di latte intero e un pizzico di sale e mettiamo tutto all'interno del boccale prima però al suo interno avremmo montato l'accessorio mixer o farfalla quindi andiamo ad inserire tutti gli ingredienti e procediamo ad impostare il nostro robot i tempi per questa ricetta sono 20 minuti a velocità 1 100 gradi e diamo il via i 20 minuti sono trascorsi adesso andiamo a mettere parmigiano e burro ovviamente li mettete solo se vi piacciono altrimenti il purè può essere gustato tranquillamente anche così semplice abbiamo rimesso il coperchio e adesso procediamo a frullare tutto per 40 secondi a velocità 4 ci avverte che il contenuto della pentola è molto caldo noi diciamo continua ma stiamo comunque a molto attente il purè è pronto andiamo a vedere guardate questo è il risultato è molto cremoso adesso lo vado a impiattare vi faccio vedere come risultato nel piatto ecco il nostro purè compatto e cremosissimo molto molto liscio come vedete è una ricetta velocissima semplice e veramente di grande riuscita spero che questa ricetta vi sia piaciuta se vi è piaciuta mettete un like al mio video ed iscrivetevi al mio canale in cucina commessie per essere aggiornati anche su altre ricette che vi proporrò in più se volete iscrivetevi al gruppo facebook messier chiusi con net plus italia e seguitemi sul sito www.messiericette.it e buon purè per tutti www.messiericette.it e buon purè per tutti